Il Super Saiyan non era altro che una leggenda, proprio come sospettavo. Non può essere un sole. Ma che cos'è? No, l'ha vista! Che strano! E quella cosa sarebbe? No, l'ha vista! L'intenzione è di colpirmi di sorpresa, vero? Invece hai giocato in vano la tua ultima carta e ora sei proprio spacciato. Addio, bello! Avanti, Goku! Rialzati e completa quella sfera prima che sia troppo tardi! Sì, certo, hai ragione! Solo coraggio, fai fretta, Goku! Questa me la paghi cara, brutto muso verde! Stavolta mia vendetta sarà tremenda! Grazie! Ciao!